Ciao a tutti, eccoci nuovamente insieme per realizzare un nuovo progetto, questa volta Francesco mi è iscritta al mio gruppo Facebook e ci propone la lavorazione di questo maglioncino preso dal web, maglioncino morbidissimo, caldo e veramente indicato per la sessione un anno. Lavoreremo infatti il nostro maglioncino con la microfibra Mon Amour della Misteri Cofilati disponibile sul sito unfilodipassione.it in tante altre varianti di colore. Un filato morbidissimo adatto anche alle pelli più sensibili come riporta l'etichetta del prodotto No Peeling Merino Touch, perché Merino Touch? Perché sembra veramente di toccare la nana Merino. Un filato con una resa molto alta, in sfumido di 50 grammi, avremo a disposizione 135 metri. Per una taglia a smola ho utilizzato 280 grammi di filato, quindi 300 grammi di questo prodotto saranno sufficienti nelle misure che adesso vi mostrerò. Lavoreremo il nostro progetto con quattro uncinetti di misure differenti. Partiremo con un 5 mm, andremo a diminuire per la parte dello sprone con un 4,5, un 4 mm e un 3 mm per andare a riprendere il bordo del collo. Le forbici e con questi materiali possiamo metterci subito al lavoro. Vediamo prima come è strutturato questo motivo. Il motivo si sviluppa su un multiplo di 10 maglie. Le maglie di avvio sono la circonferenza più grande del nostro corpo, da sotto al braccio fino alla circonferenza sotto al fianco, quindi o seno o fianco. Io nel mio caso sono andata ad avviare 80 maglie che corrispondono a una circonferenza sotto al fianco di circa 80 cm. Lavorate le mie 80 catenelle, vado a chiudere con una maglia bassissima nella prima catenella iniziale. 3 catenelle iniziali, prendiamo il filo, entriamo nella seconda catenella di base e lavoriamo 2, 3, 4, 5 maglie alte, una catenella, saltiamo una maglia nella successiva una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo una maglia, nella successiva una maglia bassa, una catenella, prendiamo il filo, saltiamo una maglia e adesso ripetiamo 5 maglie alte consecutive, 1, 2, 3, 4, 5, adesso ripetiamo una catenella, saltiamo una maglia, una maglia bassa, una catenella, saltiamo una maglia, 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo una maglia, nella successiva una maglia bassa, una catenella, prendiamo il filo, saltiamo una maglia, 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, alla fine del giro lavoriamo le 5 maglie alte, una catenella, saltiamo una maglia, una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo una maglia, una maglia bassa, una catenella, saltiamo una maglia e ci agganciamo con una maglia bassissima nella prima maglia alta iniziale, secondo giro, camminiamo con una maglia bassissima sulla maglia alta successiva, adesso entriamo dietro alla maglia, agganciamo il filo, lavoriamo una maglia bassa in rilievo, 1, 2 catenelle, prendiamo il filo, nella maglia successiva entriamo una maglia alta in rilievo, ripetiamo dietro alle successive maglie alte, abbiamo lavorato in totale 1, 2, 3, 4 maglie alte, nella catenella di separazione, una maglia alta, una catenella, nelle 3 catenelle entriamo e lavoriamo un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, un punto basso nella catenella successiva, una catenella, saltiamo questa maglia alta, prendiamo il filo, questa maglia la saltiamo nella successiva, entriamo dietro e lavoriamo la prima maglia alta in rilievo, 1, 2, 3, 4, lavorata la quarta maglia alta in rilievo, prendiamo il filo, nella catenella di separazione, una maglia alta, una catenella, nelle 3 catenelle sottostanti, una maglia bassa, 1, 2, 3, una maglia bassa nella catenella, una catenella di separazione, prendiamo il filo, saltiamo una maglia, dietro alla seconda maglia alta, una maglia alta in rilievo, una maglia alta nella catenella di separazione, una catenella, una maglia bassa nelle 3 catenelle sottostanti, 1, 2, 3, una maglia bassa nella catenella successiva, una catenella di separazione, e adesso abbiamo l'inizio del giro, abbiamo la maglia alta saltata, dalla prima maglia alta, nella prima maglia alta entriamo e lavoriamo una maglia bassissima, adesso ripetiamo, entriamo nella seconda maglia alta con una maglia bassissima, prendiamo la maglia in rilievo entrando da sotto alla maglia e lavoriamo una maglia bassa in rilievo, e 2 catenelle, 1, 2, adesso lavoriamo una maglia alta in rilievo dietro ogni maglia alta, una maglia alta nella catenella di separazione, una catenella, una maglia bassa nelle 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, una maglia bassa nella catenella, una catenella per alzarci, saltiamo la prima maglia alta nella seconda maglia alta, ricominciamo con la lavorazione delle 5 maglie alte in rilievo, 4 dietro le maglie alte e una nella catenella di separazione, una catenella, una maglia bassa nelle 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, una maglia bassa nella catenella, una catenella, e ricominciamo con le maglie alte in rilievo. alla fine del giro una maglia di separazione e nella prima maglia alta iniziale chiudiamo con una maglia bassissima e ricominciamo slittando di una maglia alta, quindi con una maglia bassissima sulla seconda maglia alta e cominciando di nuovo a lavorare il punto come l'abbiamo lavorato fino adesso, andando a realizzare le nostre 5 maglie alte di cui 4 maglie alte in rilievo, una maglia alta nella catenella, una catenella di separazione, una maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, una maglia bassa nella catenella, una catenella di separazione, saltiamo la prima maglia alta e nella seconda ricominciamo con la lavorazione delle 4 maglie alte in rilievo più una nella catenella di separazione. 1, quando siamo alla fine del giro lavoriamo le 3 catenelle, una maglia bassa nell'ultima catenella di separazione, una catenella e chiudiamo sulla prima maglia alta con una maglia bassissima. Come abbiamo visto insieme la lavorazione di questo punto è davvero semplicissima, l'importante sarà iniziare una catena di base della vostra circonferenza più grande del corpo, quindi o in prossimità qua sotto al fianco oppure la circonferenza del seno, una delle due più grandi, e rimanere su un numero pari di motivi, quindi lavorando su un multiplo di 10 però per lo sviluppo di un numero di motivi suddivisibili poi allo scalpo in parti uguali. Io nel mio caso lavorando 80 catenelle ho ottenuto 4 motivi nella parte frontale e 4 motivi nella parte posteriore. Il punto andando a ripeterlo per come vi ho mostrato andrà a realizzare queste righe, questi trafori che vanno o verso il basso o comunque verso l'alto, quindi andremo a lavorare questa specie di spirale su tutto il progetto. Lavorando la circonferenza ci andremo ad evitare la cucitura nelle parti laterali, anche che come previsto da schema di questo modello del web, dove invece richiede una lavorazione a pannello, lavorando prima la parte frontale e poi la parte posteriore e andando a cucire i laterali e le spalle. In questo caso noi non lo lavoreremo, lavoreremo adesso delle catenelle per realizzare lo sbraccio e riprenderemo la manica con lo stesso verso del punto, quindi vedete una continuazione del lavoro da sopra sotto al braccio, fino alla lunghezza desiderata della manica. Io ho lavorato da questo punto qua fino a dove adesso vi mostrerò come andare a realizzare le catenelle, ho lavorato 50 cm, come avete visto nella foto, però chiaramente questo va a vostro gusto. Se volete realizzare un magioncino più lungo, un magioncino più corto, come volete, arrivate comunque alla divisione dello scalfo. Su questo punto qua poi riprenderemo lo sprone. Per lavorare adesso lo sprone, arrivati a questo punto, andremo a sostituire l'uncinetto per dare questo verso al collo, quindi andando a stringere verso la parte del collo, semplicemente passando l'uncinetto da 4,5-4 mm e poi l'ultimo bordino qua. lo lavoreremo con il 3 mm, quindi continuiamo la lavorazione e ci vediamo alla fine del progetto. Terminata l'altezza del progetto fino allo scalfo, quindi della lunghezza che desiderate della vostra maglia, io ho lavorato circa 50 cm. Adesso andiamo a realizzare delle catenelle per lavorare gli scalfi e poi continueremo il punto a circonferenza anche sopra le catenelle fino a raggiungere lo scolfo, perché lavoreremo nello stesso identico modo, quindi io ho sviluppato 80 catenelle di avvio, ho 4 motivi davanti, 4 motivi dietro, i motivi si contano sull'arco di 3 catenelle. Nell'arco di 3 catenelle, sulla prima parte iniziale, lascio libere le 5 maglie alte e vado ad unire con un marca punto le 3 catenelle su un lato, le 3 catenelle sull'altro lato. Alla fine del lato replico, nelle 3 catenelle inserisco un marca punto su un lato e sull'altro lato. Questa è la fine del giro. Questo è il mio ultimo punto basso, qua ho il marca punto, lo posiziono solamente sull'altro lato e cammino a maglie bassissime fino a raggiungere l'arco di 3 catenelle. Nello spazio di una catenella, lavoro una maglia bassissima. Nella maglia bassa, una maglia bassissima. Una maglia bassissima nell'arco di 3 catenelle. Adesso mi sposto di una, due maglie bassissime e una maglia bassissima nella maglia bassa. Una maglia bassissima nell'arco, una maglia bassissima nella maglia alta iniziale, una maglia bassissima nella seconda maglia alta. Prendo nuovamente il marca punto e lo unisco all'arco di 3 catenelle. Lavoro una maglia bassissima dietro la maglia alta, 2 catenelle, e comincio a lavorare il motivo fino al marca punto. La maglia bassissima dietro la maglia alta. sono esattamente al marco punto sull'altro lato lavoro l'ultima maglia alta una catenella dove ho le tre catenelle e il marco punto entra lavoro la maglia bassa adesso da questo punto qua io vado a realizzare una due tre quattro cinque catenelle per terminare lo sviluppo del punto 10 catenelle per un punto completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 più altre 10 se volete uno sbraccio più ampio più 1 2 3 4 e 5 quindi nel mio caso 20 catenelle sono sufficienti se dovete lavorare una taglia maggiore lavorate 10 catenelle in più per lo sviluppo di un altro motivo completo adesso prendiamo il nostro lavoro ci voltiamo sull'altra parte quindi saltiamo cinque maglie alte laterali che sono queste qua e saranno nel sottobraccio e andiamo ad agganciare la nostra ultima catenella dove abbiamo il marca punto sull'altro lato nell'arco di 3 catenelle entriamo e lavoriamo la maglia bassissima adesso dobbiamo terminare il punto come se ci trovassimo sull'arco di 3 catenelle lavoriamo 1 2 3 un punto basso nella catenella di separazione successiva una catenella saltiamo la prima maglia alta nella successiva cominciamo a lavorare le nostre cinque maglie alte mi trovo in prossimità del marca punto sull'altro lato lavoro in cinque maglie alte una catenella nell'arco di 3 catenelle lavoro una maglia bassa qual marca punto che cosa faccio lavoro di nuovo le mie 2 3 4 e 5 più 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 più 1 2 3 4 e 5 se avete lavorato 10 catenelle in più lavorate altre 10 catenelle entro adesso sull'altra parte dove ho il marca punto nell'arco di 3 catenelle dove poi ho realizzato anche le maglie bassissime quindi posso togliere il marca punto in modo da entrare bene nel mio lavoro dove l'arco di 3 catenelle lavoro una maglia bassa una due tre catenelle nella catenella di separazione successiva un punto basso e adesso sono alla fine del giro una catenella nella prima maglia alta iniziale dentro e lavoro una maglia bassissima ora ho realizzato queste maglie che serviranno poi per riprendere la manica adesso lavoreremo di nuovo circonferenza quindi lo stesso motivo ma lo lavoreremo sopra le catenelle e continueremo la lavorazione del punto fino al collo il primo punto il primo motivo completo lo lavoriamo con il 5 mm quindi da dove siamo smettiamo di una maglia bassissima nella seconda maglia alta una catenella un punto basso il rilievo 2 catenelle e lavoriamo il punto normalmente ci vediamo qua alle catenelle dell'altro dell'altro lato per lavorare il punto sulle maglie della spalla quindi continuiamo fino alle catenelle eccomi alle catenelle del braccio ho lavorato le mie quattro maglie alte 1 2 3 e 4 prendo il filo nello spazio di una catenella lavoro la quinta maglia alta una catenella qua il punto basso nell'arco di 3 catenelle sottostanti lo salto nella prima catenella quindi salto il punto basso nella prima catenella entro un punto basso 1 2 3 catenelle salto una maglia nella successiva un punto basso una catenella salto una maglia nella successiva la prima delle cinque maglie alte 1 2 3 4 5 se avete lavorato 10 catenelle in più proseguite nello stesso modo quindi andiamo a procedere nello stesso identico modo e poi terminate come vi mostrerò una catenella salto una maglia nella successiva un punto basso 1 2 e 3 salto una maglia nella successiva un punto basso una catenella prendo il filo salto una maglia nella successiva la prima delle cinque maglie alte 1 2 3 4 e 5 nella prima catenella che incontro quindi nell'ultima della della manica queste sono le maglie della spalla una catenella qua adesso io mi trovo l'arco di 3 catenelle nella parte sottostante poi ho di nuovo le 3 catenelle del giro che ho lavorato in precedenza quindi vado ad agganciare questa catenella non nell'arco ma nelle 3 catenelle successive che ho già lavorato nel giro sottostante 1 2 3 catenelle nella catenella di separazione successiva un punto basso una catenella salto una maglia nella seguente lavoro nuovamente il punto con le mie 5 maglie alte e ci vediamo per lavorare insieme le catenelle sull'altro sull'altra spalla praticamente ci vediamo qua eccomi qua ho raggiunto le catenelle ho lavorato le mie 5 maglie alte una catenella di separazione salto il punto basso nella prima catenella del braccio lavoro il punto basso 1 2 3 catenella salto la catenella successiva nella catenella salto la maglia successiva nella seguente le 5 maglie alte consecutive 1 2 3 4 5 e ho terminato la lavorazione già di questo motivo iniziato il motivo successivo una catenella salto la maglia nella successiva un punto basso 1 2 3 salto la maglia 1 punto basso 1 catenella prendo il filo salto la maglia 5 maglie alte 1 2 3 4 sono nuovamente sulla parte del corpo della maglia quindi mi volto per lavorare sul dritto del motivo e vado a terminare il punto una catenella qua ho le 3 catenelle entro lavoro il punto basso 1 2 e 3 nella catenella successiva un punto basso una catenella e poi l'inizio del lato questa è la prima maglia alta nella prima maglia alta entro e lavoro una maglia bassissima una maglia bassissima sulla maglia alta seguente un punto basso il rilievo e due catenelle adesso lavoro il motivo sulla parte del corpo sopra alle maglie dello sbraccio continuo nella parte posteriore e termino lavorando le maglie dello sbraccio fino a raggiungere la fine del lato io lavoro un motivo completo sempre con il 5 mm il motivo successivo cambio uncinetto e vado ad utilizzare il 4,5 lavoro qualche altro punto completo con il 4,5 gli ultimi due o tre giri in base a quanto voglio stringere il lavoro li vado a terminare con il 4 mm per avere una scollatura un pochino più strinta solitamente io per la mia taglia lavoro 15 cm in altezza quindi dovrò indossarla e valutare quanti centimetri andare a lavorare cambiando uncinetto andremo a stringere in questo modo verso il collo la lavorazione dello scalfo quindi continuiamo cambiando uncinetto sul giro successivo passiamo al 4,5 e poi valutate voi quando terminare con il 4,5 e terminare con il 4 mm ci vediamo terminata la lavorazione della parte superiore quindi dello strone a questo punto del nostro tutorial noi siamo a questo tipo di lavorazione qua vedete come si notano bene le nostre righe abbiamo lavorato a circonferenza chiusa senza necessariamente dover andare poi a scuscire il lavoro il nostro strone ha preso forma semplicemente cambiando uncinetto adesso terminiamo la ripresa del colo e poi andiamo a realizzare la manita ho terminato il lavoro andando a realizzare circa 12 cm di altezza perché adesso con l'uncinetto da 3 mm andrò a realizzare qualche giro adesso vedo fino arrivare a 15 cm almeno solo con maglie alte andando a chiudere i fori dove abbiamo le nostre 3 catenelle di separazione quindi dobbiamo uniformare tutta la scollatura questa è la fine del lavoro mi riaggancio con l'uncinetto da 3 mm e adesso vado a lavorare sopra ad ogni maglia alta una maglia alta in rilievo quindi questa è la fine del giro la chiusura e adesso comincio la lavorazione delle maglie alte direttamente da qua senza spostarmi lavoro il punto basso il rilievo e 2 catenelle adesso lavoro dietro alle mie cinque maglie alte una maglia alta sempre in rilievo qua mi trovo la il foro dove devo andare a realizzare la maglia alta semplice adesso qua io ho le 3 catenelle di separazione il punto basso un'altra catenella dove ho le 3 catenelle entro e lavoro una maglia alta dove ho la catenella di separazione entro e lavoro una maglia alta e adesso continuo dietro ad ogni maglia alta a lavorare una maglia alta in rilievo di nuovo sono dove ho il foro di una catenella entro e lavoro la maglia alta dove ho le 3 catenelle entro e lavoro una maglia alta dove ho la catenella entro e lavoro una maglia alta e vado in questo modo a chiudere proprio il motivo quindi non realizzo più le 3 catenelle non vado a saltare più le maglie dove ho la maglia alta in rilievo la prima del giro continuo e lavoro una maglia alta in rilievo dietro ad ogni maglia alta in rilievo alla fine del giro di maglia alta sulla prima maglia alta iniziale chiudo con una maglia bassissima adesso vado a lavorare in rilievo dietro ad ogni maglia alta un altro giro di maglia alta una catenella per alzarmi sulla maglia alta di chiusura entro dietro la prima maglia alta con una maglia bassa quindi lavoro un punto basso in rilievo più 2 catenelle e adesso entro dietro ad ogni maglia alta e vado a lavorare un ulteriore giro con maglia alta in rilievo il numero di giri a maglia alta adesso varia in base al vostro gusto quanto dovete recuperare per l'altezza dello scollo quindi se volete una maglia un po' più accollata se la volete un pochino più scollata lavoratene un numero inferiore però l'importante adesso è riprendere e chiudere tutte le maglie con un giro di maglia alta in rilievo dopo aver terminato la lavorazione con delle maglie alte vi do la dimensione dell'altezza dello sbraccio quindi dello scalfo sono 15 cm nel mio caso perché per me sono sufficienti per raggiungere l'altezza del collo ho lavorato dal giro in cui vi ho lasciato semplicemente un giro a maglie alte in più e ho terminato ho affrancato il filo quindi ho sganciato il lavoro adesso lavoreremo le maniche per lavorare le maniche dobbiamo procurarci nuovamente il nostro uncinetto da 5 mm per prima cosa pieghiamo perfettamente il nostro lavoro in modo da avere la stessa simmetria sia su un lato che sull'altro lato dove abbiamo lavorato lo sprone quindi il nostro progetto deve essere chiuso perfettamente a metà io qua ho l'arco, il quarto arco del motivo sulla parte frontale dove ho iniziato il lavoro delle catenelle sull'altro lato il primo nella parte posteriore ho l'arco di 3 catenelle queste maglie qua, le 5 maglie alte che abbiamo lasciato per lo sbraccio le andiamo a riprendere e ci agganciamo con l'uncinetto da 5 mm sulla seconda maglia alta, quindi la prima la saltiamo, sulla seconda delle 5 maglie alte entriamo dietro alla maglia alta lavoriamo un punto basso e rilievo 2 catenelle prendiamo il filo, dietro alla maglia alta seguente la seconda maglia alta e rilievo la terza la quarta nella catenella di separazione la quinta maglia alta una catenella un punto basso nell'arco di 3 catenelle 1, 2, 3 un punto basso qua abbiamo l'inizio delle nuove 5 maglie alte quindi un punto basso qua nello spazio di una catenella una catenella prendiamo il filo, saltiamo la prima maglia alta nella seconda una 2 3 4 nella catenella di separazione la quinta maglia alta e lavoriamo il motivo normalmente lungo le maglie dello sbraccio la quinta maglia alta quando siamo alla fine del lavoro quindi a chiudere la circonferenza siamo nel nostro sottobraccio lavoriamo le nostre 4 maglie alte in rilievo una maglia alta nello spazio di una catenella una catenella e poi qua abbiamo le 3 catenelle l'unione del punto e poi abbiamo ricominciato sull'altro lato con le 3 catenelle la maglia bassa e la catenella allora solo su questo giro noi lavoriamo in questo modo andiamo nel primo spazio di 3 catenelle lavoriamo una maglia bassa 1 2 e 3 catenelle nell'arco di 3 catenelle successivo entriamo e lavoriamo il punto basso una catenella adesso qua abbiamo il punto basso la catenella e la prima maglia alta agganciamo direttamente la catenella di separazione sulla prima maglia alta del giro e andiamo ad unire le maglie nel sottobraccio ok adesso ricominciamo con la lavorazione quindi una maglia bassissima nella seconda maglia alta e rilievo una maglia bassa e rilievo dietro la maglia alta più una e due catenelle prendiamo il filo e lavoriamo il nostro motivo normalmente mi trovo nuovamente alla fine del giro perché sono alla lavorazione delle 5 maglie alte quindi 4 in rilievo una nella catenella adesso ho le 3 catenelle la catenella è l'inizio del lavoro lavoro una catenella nelle 3 catenelle un punto basso 1 2 3 catenelle dove ho la catenella di separazione un punto basso una catenella e chiudo il giro con una maglia bassissima nella prima maglia alta iniziale quindi nella seconda catenella adesso slitto di una maglia bassissima sulla seconda maglia alta una maglia bassa in rilievo e 2 catenelle e adesso lavoro il punto normalmente a circonferenza per la lunghezza della manica ho terminato di lavorare la manica in lunghezza e questo è il risultato sono andata a realizzare una manica molto lunga che va a coprire fino a sopra la mano però chiaramente anche questo è uno spunto va a vostro piacimento potete realizzare una manica al polso se volete portare un bracciale e magari una manica un pochino più su del polso una manichina a 3 quarti oppure anche addirittura andare ad aumentare il numero di catenelle nell'arco di 3 catenelle che lavoriamo che sono quelle che creano il foro andare a lavorare 4 o 5 catenelle a seconda di quanto volete andare ad aprire per avere una manica svasata magari dal gomito fino al polso questo a vostro gusto io vi do queste alternative per lavorare il vostro progetto e a questo punto noi abbiamo terminato spero che anche questo lavoro vi piaccia e che vogliete realizzarlo fatemi sapere che cosa ne pensate e se avete delle richieste delle domande o dubbi potete iscrivervi o nel mio gruppo facebook oppure direttamente qua sotto ai commenti di questo video tutorial tutti i link a riferimento al filato e gli accessori che ho utilizzato li trovate sempre nelle info box tramite la merceria unchilodipassione.it io vi mando un basso grande e noi ci vediamo al prossimo video ciao a presto ciao a presto ciao a presto